in questo video vedrete la preparazione delle lenticchie sono lenticchie piccolissime ma sono veramente buone perché questa ricetta le renderà dolcissime e deliziose andiamo a preparare insieme le lenticchie volete mangiare delle lenticchie dolcissime? ebbene questa è la ricetta che fa per voi seguite il video e facciamoli insieme allora cosa ci occorre? lenticchie secche molto piccole poi mezza cipolla uno spicchio d'aglio salsa di pomodoro e carote io le carote preferisco grattugiarle però va benissimo anche a rondelle per il condimento utilizzeremo olio extravergine d'oliva un pizzico di sale e poi aggiungeremo un pochino di acqua la prima cosa da fare è controllare le lenticchie verificare che non ci siano sassolini perché succedere? poi le andremo a sciacquare abbondantemente aggiungiamo l'acqua l'acqua deve coprire le lenticchie abbondantemente aggiungiamo la cipolla lo spicchio d'aglio la salsa di pomodoro le carote grattugiate e le carote tagliate a rondelle un pizzico di sale l'olio lo aggiungeremo alla fine mescoliamo chiudiamo e facciamo bollire ecco facciamo bollire per qualche minutino e poi abbassiamo la temperatura la cottura dovrà avvenire lentamente quindi la temperatura dovrà essere medio-bassa perciò lasciamo cuocere per almeno 45-50 minuti che profumino che meraviglia aggiungiamo un filino di olio a crudo se non ci piace la cipolla la possiamo anche eliminare ma vi assicuro che è buonissima anche la cipolla facciamo l'assaggino guardate che meraviglia sono spettacolari dolci vediamo un po' mmm mmm che bontà ma che bontà meravigliose mmm le dovete fare tutti così le lenticchie sono buonissime e farete veramente un figurone un successo garantito se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al mio canale per non perdere le prossime ricette grazie grazie